Bentornati sul mio canale, se siete nuovi benvenuti, io sono Scesi e come ogni venerdì dal mio salotto vi racconto una storia di true crime, mistero o paranormale. Se questo tipo di video vi interessa vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi le prossime storie. Detto questo iniziamo subito con il caso di oggi. Il caso di oggi è un caso tuttora aperto, purtroppo non siamo arrivati a una fine per il semplice fatto che il processo è bloccato, ma di questo ve ne parlerò più avanti. È il 3 febbraio del 2016 quando in un fosso in un tratto di strada del deserto tra il Cairo e Alessandria in Egitto viene ritrovato il corpo senza vita di un giovane 28enne di nome Giulio Regeni. Giulio Regeni è nato a Trieste il 15 di gennaio del 1988 e cresce a Fiumicello in provincia di Udine. Non ho trovato praticamente niente sull'infanzia di Giulio, però si sa che ancora da minorenne si è trasferito in America per poter studiare all'Armand Hammer United World College of the American West in New Messico negli Stati Uniti appunto. Dopodiché si è trasferito sempre per studio nel Regno Unito dove frequenterà il College di Cambridge. Vince per due volte il premio Europa ai Giovani negli anni 2012 e 2013 al concorso internazionale organizzato dal Istituto Regionale degli Studi Europei in cui appunto vince premi per gli studi approfonditi che aveva fatto sul Medio Oriente. Inizia a lavorare per l'Unido che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, un'agenzia che si occupa dell'incremento dell'attività industriale dei paesi membri. Ad un certo punto Giulio viene mandato proprio da Cambridge in Egitto per conseguire un dottorato di ricerca sui sindacati indipendenti egiziani presso l'Università Americana del Cairo. Facendo le sue ricerche Giulio scrive degli articoli usando uno pseudonimo, Antonio Druis. Questi articoli vengono pubblicati dall'agenzia di stampa NENA ed escrivono la difficile situazione sindacale dopo la rivoluzione del 2011 proprio in Egitto. Il 25 gennaio del 2016 era infatti il quinto anniversario proprio della rivoluzione che c'è stata nella piazza più grande del Cairo, chiamata Rivoluzione del Nilo. Una protesta civile per un rinnovamento politico e sociale contro il presidente e scusatemi io non ho idea di come si pronunci quindi se sbaglio ditemelo per favore Hosni Mubarak o Mubarak non lo so. E durante questa rivoluzione ci sono stati veramente tantissimi scontri e tantissime vittime tra manifestanti, poliziotti e militari. Era iniziato tutto intorno al 17 di gennaio del 2011 quando un uomo al Cairo si diede fuoco come fece Mohamed Bouazizi, un venditore ambulante e attivista tunisino. Dopodiché il 20 di gennaio sempre del 2011 altri due operai si diedero fuoco e questo per iniziare una protesta contro il trasferimento forzoso. E si arriva così al 25 gennaio del 2011 quando ben 25.000 protestanti scesero in piazza nella capitale chiedendo riforme politiche e sociali in seguito a un'altra rivoluzione avvenuta soltanto tra il dicembre e il gennaio dello stesso anno ovvero la rivoluzione dei gelsomini. Più precisamente il periodo andava dal 17 dicembre del 2010 al 14 di gennaio del 2011 quindi pochissimi giorni prima. La rivoluzione dei gelsomini era iniziata per andare contro alla disoccupazione, all'inflazione sugli alimenti ovvero l'aumento di prezzo degli alimenti, la corruzione e anche le cattive condizioni di vita. Questa manifestazione ovviamente si trasforma subito in uno scontro con le forze armate e infatti ci saranno ben quattro vittime, una di queste era un poliziotto. E questo ci riporta al 25 gennaio del 2016 che appunto era il quinto anniversario ma anche la data in cui Giulio Regeni sparì completamente. Alle 19.41 di quel giorno Giulio mandò un sms alla sua fidanzata ucraina dicendogli che stava uscendo. Il ragazzo infatti si stava recando in piazza Tahir per incontrare alcuni amici e festeggiare un compleanno. Dopo poco tempo un'amica di Giulio, anche qua se sbaglio pronuncia scusatemi, Noura Wabi, con cui si era incontrato per la prima volta nel 2014 proprio a Cambridge, denuncia la scomparsa di Giulio su Facebook. Nei giorni successivi alla scomparsa inizierano a comparire per tutti i social e per tutto l'internet, hashtag che dicevano Where is Giulio? Immediatamente ovviamente iniziano le ricerche ma passano giorni e di Giulio non c'è traccia. Questo fino appunto al 3 febbraio del 2016. Come ho detto prima, Giulio viene trovato in un fosso, in un tratto di strada Cairo-Alessandria, nudo e mutilato. Il corpo presentava più di due dozzine, cioè ragazzi sono tantissime, due dozzine di ossa rotte, tra cui sette costole, tutte le dita delle mani e dei piedi, le scapole, le braccia, le gambe, aveva cinque denti rotti, coltellate multiple, segni di tagli e delle ferite che sembravano quasi delle coltellate però inflitte con un punteruolo o qualcosa di simile sulle piante dei piedi. Presentava inoltre su tutto il corpo dei segni evidenti di bruciatura di stigaretta. Secondo l'autopsia però la causa della morte per Giulio è stata un'emorragia celebrale causata da un colpo inferto dietro la nuca che gli ha spezzato la colonna vertebrale. Giulio quindi viene riportato in Italia e il suo funerale viene celebrato il 12 febbraio del 2016 proprio a Fiumicello. Già subito dopo il ritrovamento del corpo, il generale Khaled Shalabi, direttore dell'amministrazione generale delle indagini di Giza, dichiarò che Giulio era stato vittima di un semplice incidente stradale. In seguito però poi la polizia egiziana cambia versione e dice che secondo loro l'omicidio è stato causato o da un movente omosessuale ovvero che sostenevano che Giulio fosse omosessuale e lì in Egitto purtroppo non c'è la libertà che abbiamo qua, oppure una resa dei conti per spaccio di stupefacenti. Però queste due teorie sono abbastanza smentite, in senso Giulio aveva una fidanzata e in più i genitori e chiunque lo conoscesse diceva che non aveva mai fatto uso di sostanze. Ovviamente sono saltate fuori anche diverse teorie tra cui quella che Giulio fosse stato ucciso da una gang Baltagia, credo che si pronunci così, che era stata soldata dagli organismi di controspionaggio egiziano. Inizialmente le autorità egiziane garantirono una totale collaborazione, ma venne subito tutto smentito. Le autorità italiane infatti potevano interrogare i sospetti per pochissimo tempo, ovvero solo per alcuni minuti quando invece magari erano stati già interrogati per ore e ore dalla polizia egiziana. Inoltre le riprese video della metropolitana dove era stato ripreso Giulio per l'ultima volta vivo, vennero cancellate. Le autorità egiziane inoltre negarono i tabulati telefonici della zona dove viveva Giulio e anche della zona dove fu trovato il suo cadavere. Medici egiziani e italiani condussero autopsie separate sul corpo di Giulio. Secondo la relazione ufficiale forense del primo marzo del 2016, Giulio fu torturato per un massimo di sette giorni con un intervallo di 10-14 ore tra una tortura e l'altra, per poi essere ucciso. Inoltre l'ora del decesso risale a circa 10 ore prima del ritrovamento del corpo e il dossier fornito dalle autorità egiziane venne giudicato come carente ed incompleto nell'informativa del 5 aprile del ministro degli esteri Paolo Gentiloni, che inoltre accusa proprio l'insufficiente collaborazione delle autorità egiziane. Per favorire le indagini, parenti e amici di Giulio hanno dato spontaneamente i loro effetti personali come telefoni o computer alle autorità italiane per vedere se riuscivano a trovare qualcosa. I genitori di Giulio inoltre hanno consegnato alle autorità il portatile che aveva in Egitto, nel suo appartamento in Egitto, Giulio quando poi è scomparso. E da questo computer è risultato che nei giorni precedenti alla scomparsa è stato veramente tanto utilizzato. Da come ho trovato io dicono questo vuol dire che Giulio non era uscito di casa, ma secondo me non è detto. In senso tu hai un portatile, puoi tranquillamente uscire di casa, portartelo dietro e lavorare fuori, quindi non vuol dire niente secondo me, ma questa è una mia opinione. Il 24 marzo del 2016 la polizia egiziana ha ucciso quattro uomini che aveva indicato come possibili sospettati del sequestro proprio di Giulio, affermando che la banda che avevano ucciso era specializzata proprio nel sequestro delle persone straniere al fine di estorcere loro del denaro. Durante l'operazione che ha portato all'uccisione di questa fantomatica banda, la polizia egiziana trova un borsone di colore rosso con il logo quello lì con la banniera dell'Italia, non so, adesso vi metterò sicuramente una foto, ma penso che tutti l'abbiate visto almeno una volta, in cui erano contenuti effettivamente gli effetti personali di Giulio. Quindi aveva la carta di identità, le tessere del campus, il passaporto, i documenti, carte di credito. Ho trovato anche una foto e sotto nella didascalia c'è scritto che nella foto appunto che c'era lì sopra c'era anche presente dell'ashish che io però non vedo, cioè se lo vedete ditemelo perché magari sono ciecata. E questa cosa rafforzava anche il pensiero delle autorità egiziane che dicevano che era stato appunto ucciso per motivi di spaccio, di sostanze stupefacenti. In seguito l'ufficio del procuratore di Nuovo Cairo ha negato che la banda avesse qualcosa a che fare con l'omicidio di Giulio. Infatti si decidono a consegnare i tabulati telefonici e si scopre che il capo di questa banda al momento del sequestro di Giulio si trovava a 100 km di distanza dal luogo dove è stato rapito, quindi non penso proprio che c'entrasse qualcosa. Inoltre a partire dal 24 di febbraio del 2016 Amnesty International Italia ha lanciato la campagna Verità per Giulio Regeni, lanciando anche una petizione sul portale change.org in cui hanno aderito più di 100.000 sostenitori. Inoltre il 10 di marzo del 2016 è stata approvata dal Parlamento Europeo di Strasburgo, una proposta di risoluzione che condanna la tortura e l'uccisione di Giulio Regeni e le continue violazioni dei diritti umani del governo di Alsisi in Egitto. Detto ciò, tornando un attimo indietro, secondo la procura di Roma il depistaggio che riguarda il Borsone Rosso e la sparatoria ai danni dei quattro, di quella banda di quattro persone, fu inscenato proprio dai servizi segreti egiziani e sempre secondo la procura Giulio, che era lì appunto per fare ricerche, era stato preso come una spia e quindi rapito e torturato. A denunciarlo sarebbe stato un uomo di nome Mohamed Abdallah, leader del sindacato degli ambulanti che Giulio aveva incontrato per fare una ricerca. Abdallah avrebbe poi denunciato Giulio proprio alla polizia di Giza il 6 gennaio del 2016, per poi seguirlo per un po' di giorni, circa fino al 22 di gennaio, pochi giorni prima della sua scomparsa, comunicando alla polizia ogni minimo movimento che faceva Giulio. Detto ciò, senza nessuna collaborazione proprio da parte del governo egiziano, le indagini si chiusero nel dicembre del 2020. Nel maggio del 2021 però vennero rinviati a giudizio quattro ufficiali dei servizi segreti egiziani, il generale Tariq Sabir, due colonnelli, uno Atar Kamel e l'altro Husam Helmi e il maggiore Magdi Sharif. I reati contestati sono sequestro di persona pluriaggravato, concorso in lesioni personali gravissime e infine omicidio. Non è stato purtroppo contestato il reato di tortura perché non era ancora presente nello stato italiano, è stato inserito soltanto nel 2017, ovvero dopo la morte di Giulio. Il governo egiziano ha sempre negato di aver coperto i quattro indagati, però è anche vero che non ha mai fornito per esempio gli indirizzi bloccando in questo modo il processo. Infatti sia la Corte d'Assise di Roma sia la Cassazione hanno specificamente detto che senza l'avviso ai quattro imputati il processo non può svolgersi. Infatti l'imputato per potersi difendere deve essere a conoscenza del fatto di essere accusato. Secondo il giudice per le udienze preliminari però si può tranquillamente ritenere che i quattro siano benissimo a conoscenza del fatto di essere imputati in un processo. Perché la stessa notorietà del caso si potrebbe considerare tranquillamente essa stessa una notifica. Col giro del mondo che ha fatto questo caso è impossibile che questi almeno una volta non abbiano sentito di essere imputati in un processo. Ma appunto la Corte d'Assise e la Cassazione non sono d'accordo con questa affermazione. Negli anni ci sono state anche altri tentativi di ostruzionismo da parte delle autorità egiziane. Per esempio negando le rogatorie che sono le richieste da uno Stato a un altro a compiere atti investigativi come per esempio un interrogatorio. E per esempio loro negavano le rogatorie del giudice e del pubblico ministero e non è mai servito a niente l'intervento del governo italiano. Non è cambiato niente. Il 7 novembre del 2022 al Sisi aveva incontrato prima Giorgia Meloni a Sharm el Sheikh e poi il ministro degli esseri Antonio Tajani al Cairo. E al suo ritorno dall'Egitto Tajani aveva detto sia il presidente sia il ministro degli esseri mi hanno assicurato la volontà dell'Egitto di rimuovere gli ostacoli che possono creare problemi. Non c'è stata, devo dirlo agli italiani, nessuna reticenza da parte egiziana. E qui arriviamo al punto in cui la Meloni e Tajani dovevano testimoniare davanti al giudice di udienza preliminare e avrebbero dovuto dire in cosa consisteva in termini concreti la volontà di rimuovere gli ostacoli che aveva espresso il governo egiziano. L'intervento però dell'avvocatura dello Stato ha reso impossibile la testimonianza di Giorgia Meloni e di Antonio Tajani. La richiesta di ascoltarli come testimoni era stata fatta da Alessandra Ballerini che è la legale dei genitori di Giulio Regeni. Il giudice di per sé aveva accolto questa richiesta ma è stata proprio l'avvocatura dello Stato a decidere che la divulgazione non poteva avvenire. Questo perché la divulgazione dei medesimi contenuti senza il consenso dello Stato estero interessato potrebbe incidere sulla credibilità nella comunità internazionale. In parole povere non potevano dire niente, un po' come quando vai dal dottore e ha il segreto professionale. In sintesi è quello. E questa affermazione da parte dell'avvocatura dello Stato fa rimanere un attimo così. Anche perché sia il consiglio sia la stessa avvocatura nel processo per l'omicidio di Giulio si erano espressi in questo modo. L'aver violato la vita, l'integrità psicofisica e delle libertà dei cittadini italiani all'estero ha leso l'immagine e il prestigio dello Stato italiano nella sua funzione di protezione dei propri cittadini all'estero. Ed avevano anche chiesto un risarcimento al governo egiziano di ben un milione di euro. Dunque questo processo resta per il momento bloccato e non ho idea di come potrebbe sbloccarsi. Io spero che trovino una soluzione. Anche perché questo povero ragazzo dopo sette anni merita giustizia. Anzi la meritava molto, molto prima. E questo caso ragazzi mi lascia senza parole perché è veramente una roba del genere come può accadere. Ma poi come puoi pensare che un ragazzo che è lì per fare ricerche, semplicemente per studio, sia una spia? Ma chi te l'ha detto a te? Ma poi appunto non penso abbia fatto qualcosa di effettivamente illegale che abbia potuto far pensare alla polizia o comunque le autorità ai servizi segreti egiziani che stesse facendo qualcosa comunicando segreti di stato importantissimi a Cambridge. Detto ciò ragazzi ditemi anche voi cosa ne pensate perché questo è tutto quello che ho trovato su questo caso. Scrivetemi tutto qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto come sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale e non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Se vi fa piacere seguitemi anche sugli altri social, vi lascio sempre i link sotto in descrizione e noi ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo caso. Ciao!